la ricetta che tra poco vi racconterò finalmente una ricetta dal vivo con gli ingredienti qui di fronte a noi insomma è una ricetta che in realtà parte da un ingrediente molto importante per la nostra alimentazione mi riferisco al cavolfiore il cavolfiore è un superfood che così è stato definito anche dalle Nazioni Unite dalla FAO insomma è un cibo altamente nutriente pensate che 100 grammi di cavolfiore hanno solo 25 calorie ma soprattutto una quantità molto importante per il nostro organismo di proteine un cibo quindi importante un ingrediente perfetto secondo me per poter davvero essere anche un po' eclettici diciamo così o eclettiche in cucina per questo ho pensato a una diretta che possa in qualche modo rivisitare il cavolfiore e proporlo sotto una nuova veste ho qui davanti a me tutta una serie di ingredienti a partire appunto dai cavolfiori vi invito a prendere appunto un cavolfiore di medie dimensioni tagliarlo a metà e mi riferisco soprattutto a porzioni da due persone e il cavolfiore prendiamo praticamente il fiore e lo tagliuzziamo lo tagliamo in maniera molto fine lo mettiamo nel frullatore in un frullatore e lo riduciamo praticamente quasi in polvere in pezzettini molto piccoli questo è il nostro cavolfiore lo mettiamo poi in una ciotola come questa che stiamo inquadrando in questo momento una ciotola anche questo caso di medie dimensioni con del formaggio grattugiato insieme a questo formaggio prendiamo due uova io adesso in questo momento ve ne sto mostrando uno e di queste uova prendiamo praticamente l'albume solo l'albume albume cavolfiore formaggio grattugiato lo mettiamo in questo contenitore e insieme a questi ingredienti aggiungiamo poi della farina di ceci quanta farina di ceci io direi almeno 70-80 grammi cominciate a mischiare questi ingredienti direttamente con le mani ma non piace utilizzare cucchiai forchette mi lavate bene bene le mani e utilizzate una mano sola per poter mischiare questi ingredienti con la vostra mano anche perché toccare il cibo il proprio cibo con le mani è assolutamente meraviglioso una volta verificata la consistenza di albume con cavolfiore e formaggio grattugiato aggiungiamo dell'olio dell'olio extravergine d'oliva che abbiamo qui in questo momento nel nostro studio quanto ne mettiamo di olio ma anche in questo caso direi qualche cucchiaio io non amo molto dare dei riferimenti troppo precisi per quanto riguarda le ricette in grammi 98 grammi no insomma andate a occhio usate il vostro occhio e il vostro istinto quindi cavolfiore formaggio grattugiato albume d'uovo due albumi d'uovo farina di ceci olio extravergine d'oliva e aggiungiamo un pizzico di sale del sale e se gradite del pepe e altre spezie come ad esempio il curry ma altrimenti va bene anche così il pepe sale olio extravergine d'oliva farina di ceci due albumi d'uovo formaggio grattugiato e il cavolfiore ridotto a pezzettini piccoli piccoli cominciamo a mischiare a mischiare a mischiare a mischiare finché non prepariamo una pappa insomma una pasta che prendiamo non deve essere assolutamente troppo solida anzi se è liquida non è un problema prendiamo questa pasta che abbiamo realizzato col cavolfiore prepariamo una pallina insomma un pochino con le nostre mani e la mettiamo sulla carta da forno che abbiamo qui in diretta la mettiamo sulla sulla teglia del forno e ne piazziamo due o tre dipende dalle dimensioni insomma dell'impasto lo stendiamo con le mani sulla carta da forno e mettiamo il nostro impasto in forno in un forno preriscaldato ventilato a circa 200 gradi quindi dai 180 a 200 gradi per almeno una ventina di minuti quando guardate insomma ovviamente la cottura e quando vedete che la cottura è ultimata perché in superficie queste omelette o queste pizze di cavolfiore diventeranno leggermente dorate potete tirarle fuori e ornarle comunque dare un condimento ulteriore in base alla vostra fantasia o a quello che avete semplicemente nella vostra dispensa o in frigorifero per preparare queste frittelle o queste pizza chiamiamole come vogliamo di cavolfiore in questo caso io ho utilizzato dei spinaci e delle fettine di provolone dolce molto molto sottili le mettiamo su queste su queste pizze insomma su questo impasto appiattito nel forno le sistemiamo sopra dolcemente e lasciamo ancora in forno ventilato oppure statico per ancora una decina di minuti il tempo insomma che il formaggio si si sciolga alla fine della cottura tiriamo fuori il piatto finalmente da sotto il tavolo come si fa nelle tv nazionali e abbiamo la nostra la nostra pizza di cavolfiore farina di ceci con formaggio provolone e spinaci una ricetta di oggi che vi proponiamo qui a café bleu un piatto assolutamente sano buono che vi permette anche di usare tutta la vostra fantasia create in cucina è bello giocare con il cibo avendone assolutamente rispetto